Sabrina, sei qui per preparare la season ciclo-cross, certo? Sì, ho avuto tre settimane, ho avuto due settimane dopo l'internazionale Thüringer Rundfahrt e ora ho preparazione per la season ciclo-cross. Questa è una buona stagione in Toscana e il 3 settembre ho il mio primo corso in Calentown. Questa è la vostra prima giro di Toscana? Sì. Buona esperienza? Sì, buona esperienza con il team Rabu. È molto buona, e l'ultima è stata una buona stagione per me. Sì, sono molto felice. Il prossimo corso è super prestigio come tutto? Sì, la prima super prestigio è Grotto Vorde, è il 9 ottobre. Sì, ho avuto. Sì, ho avuto. E dopo questo ho avuto due World Cups in Cech. Ok. E in Tchèchi, Pilsen, Tabor? Pilsen, Tabor. Sì. Ok. Romen, Genvi Romen. What is it? Genvi gimnaio Roma? Sì, sì, io scrivo in Roma, sì. Ok, grazie. Ok, ok. Ok, you're welcome.